Abbiamo scritto una lettera sulla condizione del musicista in Italia. Per scrivere questa lettera abbiamo cercato tra di noi un accordo. Abbiamo dato anche un ritmo alla lettera per renderla più musicale, che potrebbe essere O, Do, Tri, Quattro. A capo, grazie. Sai che di musica vivo, e non è una novità, virgolata, ma nessuno accorgere mai, che qualcosa qui non è mai. Tutto a capo, maiusco. Si suona poco l'assimo, compreso quando è festa. Aperte parentesi. 5, 2, 3 concerti al mese, per pochi e ne ho una festa. Chiusa parentesi. Si sta senza mangiare le fette delle salle. 7, 2, 7, 2, 7. Scusate, è finito il foglio, c'è la parola settimane, la doppia T, si mettono le righette e si va a capo. Ti va, eh? Quelli che non hanno niente da fare, e il tempo ne rimane. Ho due punti. Ma la televisione mi ha detto che il mio governo, sotto il mio governo, era una trasformazione, tutti quanti stiamo già l'aspettando, e l'ustante si suonerà dappertutto, così a notte che di giorno sarai pagati i giustoni, ci cozzerete di pasta al torno. Corzio! L'anno che sta arrivando, ci porta una nuova vita, io mi sto preparando, e questa è l'anno che sta arrivando, la nuova vita, io mi sto preparando, e la nuova vita, io mi sto preparando, e la nuova vita, io mi sto preparando,